Qualcosa? Adesso fai il video perché ti ho detto di fare video che... Eh, ma siete tutti e due in primo piano Ciao, diciamo, ciao Saluta Adesso mangiamo E poi riusciamo Su, vero? Belli satorli, satorli Ciao, babbo Perché non mangi un cucchetto? Ha fame? Eh, sì, ma... Come si sulleva? Ha massicchia Ha massicchia sul cucchetto